Sì, ce l'aspettavamo, sapevamo che la squadra era competitiva e soprattutto numerosa per poter competere su più fronti. Il momento magico della Green Volley in serie di continua. Le atripaldesi brindano ad un altro successo importante. Infatti, Matarazzo e compagni non tradiscono l'attesa e schiantano con un secco 3-0 Stabbia, chiudendo il giorno di andata con una vittoria a primo posto senza nessuna sconfitta e la qualificazione alle Final Four di Coppa Campania. Le atripaldesi si sono qualificate al pari dell'Inter serinese. Adesso, con l'addio di Nicole Giannattazio, che si è trasferita per questioni lavorative fuori dal territorio irpino, ci sarà la promozione di alcune pallavoliste del settore giovanile. È stato un 2022 da incorniciare ed anche il 2023 è iniziato nel migliore dei modi. La Green Volley sta dimostrando di avere tutti i mezzi per raggiungere il doppio sogno, per riuscire a scrivere un'altra pagina importante della propria storia, grazie ad un gruppo molto giovane ma composto da giocatrici di grande qualità e dal grande avvenire.